Beni per un valore complessivo stimato intorno ai 2 milioni e 200 mila euro sono stati confiscati a Domenico Fortunio, un imprenditore considerato contiguo al clan pesce di Rosarno. La confisca è stata effettuata dagli uomini del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria con il coordinamento della Procura della Repubblica di Palmi. La confisca ha riguardato le quote sociali e il patrimonio aziendale di due società di trasporti, Calabria Trasporti e Medma Transa, e le quote di un fondo comune di investimento mobiliare. L'imprenditore è stato già condannato in primo grado a 16 anni di reclusione nel processo All Inside per associazione per delinquere di tipo mafioso e a 5 anni nel processo Califo per intestazione fittizia, aggravata dalle finalità mafiose, in due distinti procedimenti penali ed è sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. L'attività d'indagine dei finanzieri ha permesso di accertare la sproporzione tra il patrimonio effettivo di Domenico Fortunio e i redditi dichiarati. Secondo gli inquirenti, le società di trasporto formalmente non intestate a Fortunio erano gestite dall'imprenditore con il sostegno dei pesce. Anche la collaboratrice Giuseppina Pesce ha confermato quanto scoperto dagli investigatori, evidenziando che Fortunio, dopo aver sposato la cugina del boss, Francesco Pesce, detto Utestuni, avesse cambiato vita. Prima era un soggetto dedito alle rapine, mentre dopo era diventato un imprenditore nel settore dei trasporti, costituendo e dirigendo le citate società, pur non disponendo di risorse finanziarie. Gli elementi probatori così raccolti hanno consentito di delineare un circuito perverso di illecite con partecipazioni tra il Fortunio, il boss Utestuni, il quale, oltre a sistemare il cugino acquisito anche finanziando l'avvio delle sue attività imprenditoriali, ha utilizzato tali società per riciclare i capitali, provento delle attività delittuose della cosca pesce, come del resto acclarato dal sequestro presso i locali della Medma Trans della somma di 91.000 euro in contanti. In particolare, tale denaro era stato occultato all'interno di confezioni di plastica sotto voto nascoste nelle scatole di derivazione dell'impianto di illuminazione e del quadro elettrico del garage del magazzino.